Giornata storica per Montebello di Bertona. È stata definita così dal sindaco Gianfranco Macrini che ieri ha avuto l'onore di tagliare il nastro e consegnare ai suoi abitanti tre nuove opere duramente danneggiate dal terremoto di L'Aquila 2009. È da troppo tempo che i cittadini attendevano questa riconsegna di questi spazi, specialmente adesso con i distanziamenti questo spazio era necessario veramente. Sono contentissimo di ridare alla cittadinanza ma soprattutto ai ragazzi della scuola queste strutture per poter vivere il loro tempo libero. Purtroppo l'inverno è lungo qui a Montebello quindi per fare attività fisiche oppure tutto ciò che necessita la struttura della scuola noi non avevamo questi locali. Ringrazio nuovamente l'amministrazione di Farintro che ci ha dato questa opportunità. Gli interventi per circa 2 milioni e 100 mila euro hanno riguardato il nuovo centro polifunzionale, il parco comunale e il consolidamento del versante nord del paese. I lavori sono stati finanziati dall'USRC, ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. Visto nel complesso nei comuni del cratere stiamo su percentuali che si aggirano mediamente attorno al 36%. Ci sono comuni che stanno più avanti e superano il 50% di ricostruzione e altri che stanno un po' più indietro che scontano magari soprattutto nell'alta valle dell'Aterno in provincia dell'Aquila e nella zona del Terramano scontano l'effetto del sisma del 2016. Montebello si pone un po' a metà strada fra queste percentuali. Sicuramente c'è tanto lavoro da fare ma sicuramente quello che rimane da fare è molto meno di quello che è stato fatto fino ad ora. Quindi abbiamo superato anche in questo comune il 50% come avanzamento della ricostruzione. Però, come dicevo prima, va citato proprio come esempio per come sta portando avanti la ricostruzione pubblica. Grazie.